Ciao a tutti ragazzi, sono Yomishan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video veloce ma che ci tenevo molto a fare. Vi voglio infatti augurare tantissimi auguri di Buon Natale. Vi auguro di passarlo in modo felice con le persone a cui volete bene. Io quest'anno lo passerò con la mia famiglia e non vedo l'ora proprio di vedere cosa mi hanno regalato, di aprire con loro i regali. Nel frattempo volevo anche ringraziarvi ancora una volta per tutti i commenti positivi e gli incoraggiamenti che mi fate ogni video. Vi fate veramente molto felice ogni volta e quindi vi ringrazio ancora. Fatemi sapere semmai con un commento qua sotto che cosa farete voi di bello durante questo giorno e con chi soprattutto lo passerete. Sarei veramente molto curioso di saperlo. Detto questo vi auguro ancora una volta tantissimi auguri di Buon Natale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!